100 deputati di tutti i partiti scrivono a Berlusconi, non è più tempo di incertezze, il governo agisca in fretta per realizzare la Torino-Lione. Buonasera, questi sono gli studi di Torino, della RAI. In Italia come in Francia, avete sentito i parlamentari? 100 in Italia, altrettanti in Francia, scrivono a Berlusconi e Sarkozy. E una lettera appello sulla TAV Torino-Lione, ogni incertezza deve venire meno, occorre un impulso politico decisivo per realizzare l'opera, perché proprio in questi giorni? Sentiamo. La lettera aperta è stata mandata a Berlusconi da 100 parlamentari italiani, altrettanto hanno fatto in Francia, a Sarkozy, 100 parlamentari francesi. Tra le firme Enrico Letta, Stefano Esposito per il PD, il sottosegretario Crosetto, Napoli e Armosino per il PDL, Reguzzoni per la Lega Nord, Delfino e Calgaro per l'Udc, Cambursano per l'Italia dei Valori. Dopo i 672 milioni già dati dall'Europa per gli scavi preliminari nella valle della Morien e per quello che deve iniziare a Chiomonti in Val Susa, il vero obiettivo da centrare è il contributo alla costruzione della nuova linea. Dall'Europa ci si aspetta il 30%, ovvero 2 miliardi e 400 milioni, per costruire sia il tunnel di 57 chilometri sotto le Alpi che le stazioni di Susa e Saint-Jean-de-Maurien. I parlamentari chiedono di anticipare la commissione intergovernativa, preseduta da Rainer Masera, che dovrà dare il via al progetto definitivo, e a Sarkozy e a Berlusconi di anticipare la firma del trattato prima dell'11 ottobre, in modo da arrivare con tutto fatto al 19 ottobre, mercoledì, quando la Commissione europea di Bruxelles deciderà come ripartire ben 20 miliardi per le reti TEN, trasporti trasfrontalieri. Da Italia e dalla Francia serve uno spintone politico decisivo, scrivono i cento parlamentari. Non si può, è proprio il caso di dire, perdere il treno.